Ben ritrovati subito alla palla a Filippo Tramontana. Sì, ventesimo di gioco, Inter davanti che ha avuto un'occasione con Turan poco fa. Buono ancora l'uscita di Falcone sui piedi del francese. Ora c'è l'Inter sulla sinistra in un fazzoletto, prova ad andare via Bastoni che viene fermato. Era troppo difficile andare via da lì, ci ha provato l'Inter ma perde palla. Allora riparte il Lecce con Gonzales, poi pallone all'indietro per Gendrey. Si va su Falcone che rilancia lungo sul pressing di Turan ma scavalcare il centrocampo. Acerbi lotta con Piccoli di testa, vince il contrasto, la va a recuperare benissimo Odin. Poi ancora Cerbi in anticipo su Piccoli, ancora Cerbi allarga per Mkhitaryan. Si chiude bene il Lecce lì in mezzo, Mkhitaryan però porta spasso un po' la palla in orizzontale. Poi decide di dare a Bissek, attenzione al pressing di Banda che è velocissimo. Bissek, dai su, su che quello è veloce. Bastoni allarga per Barella, stop orientato verso l'interno del campo. Ancora Barella, cerchio di centrocampo, largo c'è Bissek servito, non ha un cliente facile il tedesco. Ancora Bissek, prova ad andare via Banda che morde le caviglie. Bissek allora torna indietro, capisce il pericolo. Serve Barella, si torna a centrocampo da Cerbi. E allora vado da Leonetti. Franco, come vedi quest'Inter dopo che la tua Juventus ha vinto? Gol di Vlaovic, quindi c'è stata una serie di situazioni positive. Un Inter per la prima volta senza Martinez, senza Di Marco. Insomma, non è che voglio... Il canovaccio della partita... Barella, Barella, Arnautovic, no! Non ci credo! Solo davanti alla porta la spara fuori Arnautovic! Solo davanti alla porta l'azione la inizia proprio lui, molto bene. Barella poi trova Turam al limite dell'area, 1-2. Barella può anche tirare, vede Arnautovic, gli ha una palla che da solo da spingere in porta. Arnautovic la spinge fuori dalla porta! Mamma che palla di Ato Barella! Arnautovic doveva solo inquadrare la porta, lo specchio della porta la tira fuori. E siamo a due. Esatto, sto dicendo, non è il primo errore Filippo. Insomma, quando una prima punta, con un'occasione così, te la butta, no? Che neanche un difensore avrebbe saputo non centrare la porta così bene. E però c'è stato all'ultimo, aveva già impostato il piede per il piattone. E la palla ha fatto un'ultima deviazione, però ormai non è riuscita. Mi sembra quasi che l'abbia servito per sbaglio, volesse tirare di sinistra. Non devi fare gol, dai. Leonetti! No. Io dico male. Aspetta, arrivo ribossato. No, ma lì devi fare gol. Sei rimasto spiazzato? No, dicevo, il Canovaccio è scritto, no? Lecce si difende, l'Inter ovviamente attacca, ci mancherebbe altro. Carlos Augusto, Carlos Augusto può crossare dal fondo, è mezzo! Mette fuori Lecce, ancora bastoni, tiro strefezza! Fallo laterale per l'Inter, che ha avuto già 3-4 occasioni abbastanza clamorose. Allora, lì devi fare gol, perché altrimenti diventa difficile. Il problema però è che al gesto tecnico è andato veloce, come ha detto Simone, perché arrivava l'avversario, ma invece di mettere il piattone sul palo lungo, ha voluto chiudere dove ormai non c'era più spazio. Cioè, secondo me, lui ha messo il destro perché arrivava l'avversario, perciò ha velocizzato la giocata. Ma il problema è che doveva, secondo me, mettere il destro, ma essere più veloce e mettere sul palo lungo. Però che se l'Inter continuerà così, insomma, prima o poi al gol arriva, perché il Lecce non fa l'altro difendere. Dentro Miki può andare fino in fondo, il tiro cross deviato, il corner non c'è, perché l'ultimo tocco è dell'Armeno, rimessa dal fondo per il Lecce. Vediamo. Sì, è così. Dopo 24 minuti devo dire una roba, che francamente erano mesi che non vedevo una squadra mettere il pullman davanti alla porta come vedo il Lecce stasera. Allora, mi sa Gianni, è anche merito dell'Inter. Ah, non ha solo merito dell'Inter? No, però tu dici, non l'ho visto... Mi stanno schiacciando là. Eh, non l'ho visto... Perché anche le squadre più piccole... No, aspetta, ti dico perché... Perché vengono e giocano. Perché l'Inter comunque avrà sbagliato, ma sta creando tanto e sta giocando bene. Ma certo. Poi non so come va a finire la partita, perché gli errori poi alla fine contano. Però giustamente Gianni ha detto che il Lecce sta mettendo il pullman, ma è un Inter, nonostante senza Lautaro, senza Di Marco, secondo me questi 24 minuti stanno giocando alla grande. Ha passato due volte la metà campo in mezz'ora il Lecce. Allora, vediamo, a proposito di queste connotazioni, giustamente sta quasi per scadere, per scoccare la mezz'ora. Andiamo ad Alberto. Verona, per Verona Cagliari. Alberto, un flash. Eh, partita complicata, partita complicata, perché c'è stata qualche occasione da entrambe le parti, un palo clamoroso del Cagliari, un tiro da Pogliara, deviazione di Montipò sul palo. Il Verona si è fatto vedere con un paio di incursioni molto ispirato a Saponara, che parte dal primo minuto questa sera, un paio di incursioni veramente importanti, interessanti, ma una partita molto bloccata. attenzione, è il Lecce! Colpo di testa di Banda! Fuori alla sinistra di Sommer. Ottima azione avvolgente del Lecce, c'è il cambio gioco sulla sinistra per Odin, che è libero di crossare con il destro, troppo spazio per il numero 10 del Lecce, un cross molto interessante, la palla scavalca tutta la difesa dell'Inter, pure Carlos Augusto che stava tenendo banda, la palla arriva nella testa del numero 22 del Lecce, che non riesce a impattare bene, non riesce quindi a mirare lo specchio della porta, però occasione per il Lecce. Barella che ora prova a rubare palla a Gallo, che riparte sulla sinistra, ancora Gallo, supera la mediana, aspetta la sovrapposizione di Banda, attenzione che Banda va via Bissec, poi non ha Darmian, non ha Darmian, che capisce tutto, bravissimo Matteo! Matteo! Scusate, bravissimo Matteo ragazzi, questo ha 34 anni, le gioca tutte! Quanti ne ha? 34! Sembra 22-23! No, dicevo che l'Inter comunque adesso si è ritirata, ma è una cosa anche tattica, perché vuol far uscire il Lecce, secondo me, dalla sua area di rigore, perciò per trovare più palla, per recuperare come ha detto Gianni, però è anche per fare il giro palla, cioè a cercare di vedere se il Lecce esce o no. È un po' silenzioso il Barbato, ma dopo questa rimessa laterale in zona d'attacco... Attenzione Arnautovic, si tocca la coscia, così sembrava, tanto c'è un bar, c'è qualcosa da rivedere. Fallo laterale per l'Inter, Carlos Augusto mette la palla in mezzo all'area di rigore, attenzione a Lecce che prova a ripartire, ma non ce la fa, chiude Cialanoglu, poi strefezza, va via bene a Carlos Augusto, bastoni, non riesce a intervenire, ancora il Lecce in fase difensiva con González che va via molto bene, c'è fallo di Cialanoglu, che si prende anche il cartellino giallo. Questo ci sta, questo ci sta, inquadrato adesso Marotta, Antonello, fallo tattico, però insomma. Barbato, poi ritorno ovviamente in presa diretta, cosa ne pensi all'Inter che pensavi di vedere, che credevi di vedere, che volevi vedere? Pensa di rifare Pendolino. No, mi sembra lo stesso atteggiamento che si è visto contro il Bologna e quindi è una squadra che vuole fare gioco e che ha un grande respiro di manovra, a me piace tantissimo come gioca l'Inter, deve stare attento un po' alle imbucate perché anche col Bologna nel secondo gol bisogna stare attenti a quelle situazioni lì. C'è un piccolo particolare, il livello tecnico del Bologna non è così. Varela, Varela in area, arriva il cross morbido, non ci arriva nessuno, la va recuperare i bastoni, la mette in mezzo, la chiusura su Turam, aveva spazio, Barella ha provato il cross a giro in area di rigore, però un po' telefonato per i difensori del Lecce. Cioè bisogna stare attenti che la squadra non si innamori troppo del proprio gioco. Lo spazio per tirare in porta e non si importa! Mamma mia! Cos'è successo? È azione bellissima dell'Inter, ancora una volta dalla sinistra, il pallone per Turam che poi prova un passaggio in profondità ma negli ultimi 4 metri di area di rigore per Carlos Augusto che poi va giù, forse anche un pochino trattenuto. L'arbitro giustamente fa andare avanti, però Turam ha ricevuto palla, aveva lo specchio della porta davanti, poteva alzare la testa, provare il tiro, invece ha provato l'imbucata in un fazzoletto per Carlos Augusto che comunque aveva l'uomo di fianco e non è che potesse fare granché. Tanto c'è calcio d'angolo per l'Inter, qua è rimasto a terra banda e quindi c'è gioco fermo perché bisogna portargli le cure adeguate. L'Inter non tira, eh Filippo? Ti sei arrabbiato per quello? No, non ha tirato, prima Barella la passa da Arnautovic che poi sbaglia. Adesso Turam può tirare e la passa a Carlos Augusto quando ha la porta davanti, non tiriamo in porta. Ciala sul pallone dalla destra, vediamo, corner arriva al cross, stavolta è molto bello, Bissek traversa, mamma cosa aveva fatto Bissek, in mezza girata con l'interno, traversa piena, vicinissima ancora il gol l'Inter col tedesco, mamma mia, sfortunata qua l'Inter, cross di Ciala, mezza girata in sforbiciata di Bissek con l'interno piede destro, palla sulla traversa, fallo laterale per l'Inter, prende la rincorsa lunga d'Armian, la mette dentro in area di rigore, sembra un corner, prende un colpo, bastoni, poi prova Carlos Augusto col destro che non è il suo piede, palla in curva. Alto, alto, alto. Ferri stavi dicendo? No, no, stavo dicendo che Cialanogolo, sul discorso di Cialanogolo è vero, che magari è un po' stanco, però è un giocatore che quando è in campo secondo me il suo peso si fa sentire. Adesso stiamo vedendo di nuovo la traversa di Bissek, ha fatto un grande gesto, però ti dico, è normale secondo me a questo punto del campionato che qualcuno comincia a tirare il fiato sperando che non si facciano male, perché come ha detto Filippo, ma non l'Inter, parlo in generale, tutte le squadre hanno grossi problemi. Io ti dico che secondo me non c'è una squadra che può andare avanti tutto l'anno al ritmo dell'Inter, da come è partita l'Inter. Ah no, no, certo, certo, con gli stessi uomini. Però comunque anche oggi, ripeto, non si sa come andrà a finire, però questo primo tempo l'Inter è partito di nuovo a manetta. Ecco, questo era importante, come dicevo, anche vedere l'approccio e noi, sarà importante commentarlo questo primo tempo. Allora sai che cosa faccio? Volo in pubblicità, Leonetti tu? Ah, 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 punizione, scusa, aspetta, prima di volare in pubblicità? C'è il fallo di mano di Gonzales, attenzione che Gonzales è già monito, è già monito Gonzales, è già monito Gonzales, arbitro, è già monito, perde palla, arriva a Mkhitaryan, gliela toglie e sta per partire verso l'area di rigore. Gonzales si interrompe il gioco con un fallo di mano, calcio di punizione fischiato, ma non c'è il cartellino giallo? È graziato, è graziato. Ragazzi, oh! Oddio, ce l'ha molto distanziato dal corpo, bisogna dire la verità. Ho capito, ma interrompe un'azione con il braccio. Sì, sì, no, per carità, il cartellino ci poteva stare, però diciamo che non è così esagerato, ci poteva anche stare. Diciamo che, dato che è Natale, non gli ha dato il gioco. Ho capito, punizione per l'Inter. Poi volo in pubblicità, quindi stai tu e mi dai la palla subito. Tre quarti di sinistra, c'ha l'anogulo con il destro, 43 di gioco, c'è anche Mkhitaryan lì vicino, vediamo se è un tocco corto. No, se allontana Mkhitaryan, c'ha la prova in area di rigore, questo è molto bello! Bisset! Bisset! Che brava ste ragazzi! Stavolta la butta dentro! Prima prende la traversa, adesso con la nuca su cross di Ciala, la butta dentro, 1-0 per l'Inter! Bisset! 1-0! Dai ragazzi, dai, 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 dai! Bravo Biss, se lo merita tutto, se lo merita tutto! A parte il gol che ha fatto, che spettacolare! Però questo ragazzo prima prende la traversa, poi le prestazioni... Ce lo meritavo in generale anche nelle scorse partite! Anche le prestazioni, parlavamo prima del Bologna... All'indietro! Lui ha fatto... No, se vai a vedere, vedi com'è il calcio, l'Inter... Incredibile! ...è mancato il vantaggio, con due palloni facili da poter mettere in rete, due difficili, uno ha preso la traversa e l'altro ha preso la traversa! Ma come è il meccanismo di come fa questo gol? È veramente incredibile! Perché lui si china e la colpisce di nuca dall'indietro! Cioè, un gol al contrario! Ha fatto un gol incredibile, prima nell'occasione della traversa ha fatto un gesto tecnico pazzesco! Allora, e ritrovati il finale col botto, sia in studio che sul campo di calcio! Prima parliamo, occupiamoci di Tramontana! Finisce il primo tempo in questo momento, 1-0 per l'Inter, gol di Bissek, che ancora una volta ha giocato una grandissima partita, non è la prima, però stavolta riesce anche a fare gol, aveva preso due minuti prima una traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sempre battuto da Cialanoglu, sulla punizione, battuta da Cialanoglu, arriva il suo colpo di testa di nuca all'indietro, che buca Falcone per un 1-0 che mi sento di dire è assolutamente meritato, l'Inter ha avuto tantissime occasioni per passare in vantaggio, ha segnato su calcio piazzato con il gol di Bissek di testa. Poco fa ha avuto un'altra buona occasione con un lancio di Barella dentro l'area di rigore in verticale per Mkhitaryan, che fa un bel taglio dentro l'area, stoppa anche abbastanza bene, poi la palla gli rimane indietro, va per terra e non riesce a concretizzare. Filippo, vuoi fare tutto insieme? Up and down, già che ci sei che sei in scia? Sì, dai, va bene, va bene. Facciamo su e giù, così poi diamo qualcosa per cui commentare allo studio. Dai, vai Filippo! Non siete d'accordo? Allora, per quanto riguarda gli up, sicuramente Bissek 7,5, non solo per il gol, il gol è il coronamento di una grandissima prestazione, ha preso anche una traversa, ma soprattutto in fase difensiva con Banda non è quasi mai andato in difficoltà, è un giocatore molto veloce, piccolino, quindi si fa fatica, lui invece è molto alto, quindi è stato molto bravo sempre anche negli anticipi. L'altro che va su è Darmian, pazzesco, sempre sulla fascia di Bissek, quindi si sono aiutati molto e Darmian ha dato molta sicurezza a Bissek, quindi anche nei ripiegamenti difensivi Bissek sa che è Darmian e quindi si sente anche molto più sicuro, quindi 7 a Darmian. Mi è piaciuto molto Barella, che ha toccato tantissimi palloni, oggi il regista l'ha fatto Barella, non l'ha fatto Cialanoglu, oggi il regista l'ha fatto Barella e 7 anche a Barella, mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda i down, anche Sommer sarebbe da mettere su che ha fatto una parata interessante, però questi sono i... Arnautovic mi spiace per quanto riguarda i down, Arnautovic ha sbagliato un gol davanti alla porta e poi tante scelte sbagliate, si vede che si impegna, si vede, non sta giocando male, però da lui ci si aspetta che se arriva una palla davanti alla porta da solo, sullo 0-0 fa i gol, quindi 5 e mezza da Arnautovic, anche Turam non mi è piaciuto tantissimo, non come Arnautovic perché è stato comunque nel vivo del gioco, però si vede che è un po' stanco Turam, quindi 6-0 a Turam, come do 6-0 a Cialanoglu che non ha giocato un gran primo tempo, però comunque ha dato l'assist a Bissek, lui alla fine lo zampino nei gol ce lo mette sempre, quindi 6-0 a Cialanoglu. Chiarissimo Filippo, ci sono uomini che vorreste aggiungere, togliere, aumentare il voto? Io lascio la parola a loro che sono molto più esperti di me, e poi quando tu vuoi, avrei preparato per questa puntata un collage di canzoni di Natale cantate oggi durante questa partita dai tifosi dell'Inter. Ah, allora faccio un giro di campo perché devo andare anche ovviamente a Verona, passo però da Leonetti che ha avuto un sussulto, volevi dire qualcosa, volevi andare contro Tramontana, io lo so, lo sento, dimmi dai dove non sei d'accordo. No, 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 io invece appoggio tutte le posizioni, gli up and down di Filippo, però aggiungo Mkhitaryan, perché a me è piaciuto molto in questo primo tempo, l'ho visto molto attivo, pronto a tamponare, a proporsi, l'ho visto nel vivo del gioco, quindi è chiaro poi sul podio ce ne stanno tre, ma un trebis io lo attribuisco a un super Mkhitaryan in questo primo tempo. Sì, no, ma sono stra d'accordo che Mkhitaryan ha giocato una buonissima partita, però tre dobbiamo mettersi come gli altri tre hanno fatto meglio. Certo. Io invece ti dico la verità. Ferri, vai, tu contesti, dimmi. No, no, non è contestare, è il mio pensiero. Allora, io credo che se vai a vedere le prestazioni precedenti di Cialanoglu, oggi dici, non c'è, perché ha fatto delle prestazioni incredibili. Oggi, io parlo di oggi, un centrocampo così, Barella, Mkhitaryan e Cialanoglu, io faccio fatica a trovarlo in questo momento, ma non solo in Italia. Detto questo, poi voglio spezzare una lancia a favore di Arnautovic. È un giocatore che, è vero, ha sbagliato, ha avuto le occasioni. Quando ti capita l'occasione, anche perché davanti hai due giocatori, Turam e Lautaro, che comunque stanno facendo bene, è difficile anche intervenire. Lui ha avuto problemi fisici, io voglio trovargli una scusante. È un ragazzo che, secondo me, è stato fuori tanto. Oggi è la prima partita, dopo tanto tempo, che parte dall'inizio. E non ci dimentichiamo che sta sostituendo un giocatore. Però non è un ragazzo. Sì, hai ragione. No, no, ma non vuol dire. Guarda che è un ragazzo... No, no, dici il peso della maglia che... È un ragazzo molto sensibile. Del sostituto che vai... Allora, da di fuori noi magari uno vede l'atteggiamento di uno, uno dice... Ma se non lo conosce... È un ragazzo sensibile. È un ragazzo che ci tiene molto, no? A prescindere. Ma è un ragazzo da Inter? C'è una riserva dell'Inter? Secondo me, se lui sta bene, se lui sta bene... Oltretutto non ci dimentichiamo che ha le dita rotte anche. Sta giocando con una mano rotta. Perciò anche lì, comunque... Qualcosa ti toglie. Qualcosa c'è. Ecco, detto questo, a me quest'Inter non ha tanti giocatori, prendendoci la nogle, non solo. Non ha giocato come altre volte, ma ha fatto un primo tempo spettacolare, secondo me. Allora, solo a Roli, solo a Roli. Come parliamo? Del Bologna? No, vuoi parlare del Bologna, vuoi parlare del Lecce, vuoi parlare del Morola, del Caglia, vuoi parlare del Bologna. Vuoi parlare del Bologna, perché era contento Crudelli. Ma ha detto che voleva parlare della Serenità in pubblicità. Ma ci sono novità sulle condizioni di Tomori, così poi vado da Alberto. Oggi è stato sospeso, diciamo, la pausa che vi era prevista, dovevano rientrare da Salerno ieri sera e prendere un giorno di recuperare fino al giorno dopo Natale, invece oggi tutti allenati. Però c'è un dato significativo da evidenziare, che non c'era nessun dirigente del Milan. Nessuno oggi, è la prima volta che c'è un allenamento senza che si presenti... Cioè, ma neanche Ibrahimovic? Neanche Ibra, nessuno, nessun dirigente. Ma questo cosa vuol dire? Che stavano trattando col fondo picco? Secondo me è un po' una presa di distanze, perché obiettivamente credo che in questa fase, che poi, voglio dire, quando un calciatore fa quello che hanno fatto ieri in campo, non è poi solo colpa dell'allenatore, evidentemente. Ma una presa di distanze... Allora, tra l'altro Cardinale aveva scritto quella lettera aperta di Augurio di Natale, che era stata pesante prima del pareggio con la Salernitana. Non posso immaginare adesso cosa passa in testa. Sì, però non si reagisce staccandoti. Cioè, allora, dipende se vuoi volare il corpo... Perché la cosa pesante è imputabile sempre all'allenatore, perché è l'allenatore che sceglie lo staff della preparazione e decide che tipo di lavoro fare insieme ai preparatori. E chi sarebbe un nome, Gianni? Un nome? Non lo so, ti dico la verità. Io ne ho sentiti, ma non so quanto in realtà siano nomi che sono messi in giro... Perché sono liberi, sono sempre il solito. Tudor e via dicendo. Beh, insomma, ce n'è in giro uno che sarebbe il più forte di tutti e tu lo conosci bene perché è un tuo amico, quindi... Conte? Conte? Conte Leonetti? Può succedere di tutto. Noi sappiamo che nel calcio dici adesso una cosa, dopo due secondi sei smentito. Per carità, Conte Costa. Questo è il mio sogno, eh? Non ho detto che ci siano... Antonio Conte è un allenatore che penso che piaccia, non a tutti, però a tanti, a tantissimi. Ah beh, però conoscendo un po' Antonio non so se a questo punto del campionato con le problematiche... No, ma non in corse, io credo... Ma scusa, mi state dicendo che Pioli salta e un traghettatore, si parlava di Abate, della situazione, arriva a maggio e poi si pensa a un allenatore nuovo o si chiude la stagione e allora a quel punto anche Conte... Secondo me non la finisce la stagione più... Ah, non la finisce? No, non può finire la stagione perché... Allora, intanto i risultati parlano chiaro, ragazzi. Ha una classifica che sta per diventare deficitaria, veramente. E lo ha già perché di fatto se vince l'Inter come sta finendo la partita sei a 11 punti dalla prima. E siamo solo all'inizio di dicembre, voglio dire. Allora, quel punto veramente... Allora, se sei uscito dalla Champions, obiettivamente quali altri obiettivi ti rimangono? Se non devi rispondere del tuo lavoro, ma soprattutto... Avrei dei giocatori sani, Gianni. Eh, ma neanche... Ti chiedo scusa, perché qui si dà tanto la colpa... Io credo che è un problema di Pioli. Si dà tanto la colpa a Osti che il preparatore atletico. Però tu lo sai che la preparazione atletica non va per conto suo. C'è sempre un allenatore che è in continua simbiosi con il preparatore. Quindi se ci sono questi problemi... Ragazzi, siamo arrivati a 30 infortuni. In tutta la rosa ci sono solo sei giocatori che sono... Io credo che non ci sia... Vi ricordate dei precedenti nel calcio con una serie di infortuni? Però Gianni è lo stesso preparatore che l'ha fatto benissimo nel primo anno di Pioli. Io sono da caso con te sul lavoro sinergico del preparatore, lo staff e l'allenatore. Però guardate, poi tu parlavi della classifica, i punti, le gare non belle giocate. Ma il vero problema del Milan in questo momento è un'emorragia di infortunati che io personalmente non ricordo. Ma lui lo imputa l'allenatore. Credo che la società dovrebbe porre in un freno a questo tipo di problema. Perché se no non so come va a finire. Ma ribadisco, io non credo, lo ribadisco, che i problemi degli infortuni siano problemi legati alla preparazione solamente. Perché la preparazione, il modo di allenarsi è gestito... Dovevo dire, qui abbiamo un ex calciatore, non era il preparatore che faceva quello che voleva. Era coordinato in simbiosi con l'allenatore. Tutto il lavoro che fanno, i richiami, le cose, sono tutte quante coordinate. Poi guardate Alberto, poi guardate Simone. Il problema è che l'allenatore è quello che paga. Perché l'allenatore è quello che ti dice a te che non è più un preparatore, ne hai 7-8. Ti dice che tipo di preparazione vuole e che condizione vuole dei giocatori. Poi dopo c'è un tutt'uno. Perché se il giocatore si fa male, ti faccio un esempio, rientra, il medico lo guarda e dice ma secondo me deve star fermo. Il giocatore dice no, io voglio provarci. Cioè è tutto un giro che non è solo uno. Però è chiaro che poi chi paga è l'allenatore. In questa analisi bisogna aggiungere anche una nota che secondo me è significativa. Sai quando escono, sai quando rientrano. No, ma non solo, ma quando uno si fa male e hanno tutte le precauzioni del caso prima di farlo rientrare, aspettano piuttosto una settimana o due settimane in più. Ma è giusto, è giusto. No, ma è giustissimo. Ma ancora di più e nonostante tutto... Si rifanno male. Si fanno male. Allora ragazzi, mi dice Bonfanti, mi dà un dato, perché in questo caso i numeri veramente fotografano la situazione in maniera spietata. 30 infortuni dopo 23 partite di questi 30, 20 muscolari. Posso sollevare un quesito perché, allora io non sono un fan di Pioli, però si sta parlando dell'allenatore, sempre l'allenatore, l'allenatore. Ma parliamo anche di una società che ha deciso inizio anno, dopo un anno così così, di mandare via un uomo importante in società che aveva portato uno scudetto, aveva fatto ripartire il Milan con la semifinale di Champions League e invece promuove l'allenatore a capo di tutto, come era coach, tecnico, non lo so. Era praticamente il gestore di tutto. Avrà i suoi limiti Pioli, sicuramente io non sono un fan di Pioli. Però ragazzi, anche la società che decide di rivoluzionare tutto, togliere alcuni personaggi importanti in dirigenza come Maldini e Massara e decidere di far fare tutto a Pioli, dargli questo ruolo, parliamo anche un po' della società. Beh, gli ha appesantito un po' troppo le spalle, non l'ho mandato nei momenti... Guarda che io apre una porta spalancata, Filippo, io sono d'accordissimo con lui, perché se tu mandi via il direttore sportivo, il direttore tecnico, la scelta all'allenatore tu devi fare piazza pulita, devi mandare via anche Pioli. No, oppure dargli un uomo di Maldini, un sostituto di Maldini. No, ma è una scelta che comunque... Già, attenzione, l'anno scorso è arrivato quinto, campioni d'Italia, sei arrivato quinto. Sì, sì. Allora... No, non ci sono cambi, sì, nel Lecce è uscito Gonzales, che rischiava, il secondo giallo, in realtà, lo ha rischiato con il fallo di mano che abbiamo raccontato, al suo posto è entrato Keba come terzino, quindi il cambio c'è stato nel Lecce, Lungimirante, l'allenatore del Lecce, che ha capito la situazione, è stato graziato e quindi ha colto l'occasione per cambiare il giocatore. Posso chiedervi, ci sono stati dei replay, no, quell'immagine, quel contrasto eventuale tra Michitana e il portiere, giusto? Non ci sono stati replay, sarebbe stato bello vederli, però sinceramente a me è parso che non ci fosse il contatto. A me anche, chiaramente. Ma parli del rigore? Sì, sì, che non fosse il rigore, non ci fosse stato il contatto. Secondo me sì, però... Non c'è l'inquadratura. L'inquadratura diventa difficile da qua perché c'è Michitana davanti, fai fatica a vedere se prese. Però la sensazione... Io lo so, loro hanno altre immagini, credo, giusto? Sì, sì, sì. Magari però non hanno quella giusta, può capitare. Sì, no. Però adesso vi pongo una... Diciamo, volevo mettervi davanti agli occhi un caso nel quale un giocatore viene solamente sfiorato con un'unghia e quindi toccato, perché sfiorare vuol dire toccare. Lui si butta, l'arbitro va al Vare e dice che è rigore. Se si butta allora è simulazione se si butta, se cade, perché viene ostacolare. Attenzione a Lecce, Banda per Strefezza, limita l'area di rigore, Bastoni non riesce a togliere la palla, ancora Strefezza, crossa in mezzo, Piccoli, stoppa, gliela toglie Acerbi, bravissimo Acerbi, intervento decisivo, attenzione che ancora il Lecce insiste sulla destra con Cheba, pallone ancora all'indietro, riparte il Lecce nella trequarti offensiva con Baschirotto che allarga per Gallo, poi invece lascia per Banda vicino alla linea dell'Aus, sovrappone Gallo, Banda va verso il centro, arriva al cross in mezzo, attenzione che la palla arriva, c'è il Carlos Augusto, calcio di rigore, calcio di rigore per il Lecce, colpo di mano di Carlos Augusto, secondo l'arbitro che non ha avuto mezzo dubbio. Sembrava, però adesso per carità rivediamo, però in effetti... Calcio di rigore, anche se adesso c'è il check, noi aspettiamo di vedere il replay, c'è Banda, cross in mezzo, mette la palla... Ma dai, ce l'ha attaccata al corpo? No, però adesso vanno a vederlo, eh... Ah no, ma ragazzi, ma la presa di schiena... Ma no, ma dai, ma come fa se il rigore è questo qui... No, la presa qua, ma il braccio ce l'ha appiccicato al corpo, come fai? Ma no, ma ragazzi, dai, ma no, ma non puoi dare un rigore così, cioè non è che il braccio è così, il braccio è così, eh... Ed è di schiena... No, così Filippo è più largo... No, ma vai, girato di schiena, quella palla che gli va lì... Ma no, ma ragazzi, secondo me non è così... No, ma guarda, è così, cioè è così, girato così... E ma avete visto ieri, col Milan una valutazione, nella partita precedente, un altro tipo di valutazione, ormai fanno di mani in area... Ma ci credo, l'arbitro va a controllare, ma scusami, ma adesso con tutta la buona volontà, questo tira da 20 metri, questo si gira, fa così e la palla gli va qua, girato di schiena, ma come fa a essere il rigore? Dai, c'è un limite, su... Scusa, braccio è bravo, vediamo, vediamo, vediamo... Con il braccio dirichiamo! Dai, hai girato col braccio di là! Con il braccio è al braccio, Filippo, con il braccio sinistro, non col destro! Sì, 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 così va bene, era per fare... Vediamo, vediamo cosa decide l'arbitro! Glielo dà, glielo dà! No, niente rigore, niente rigore! Niente rigore! Giusto, giusto, Leonetti, giusto? Assolutamente sì, non può mai essere rigore, il problema è che ogni volta che c'è un silent check L'arbitro va a vedere e non sappiamo mai cosa può accadere La cosa buona è che ha dato a vedere Ma questo non può mai essere rigore No, però a volte il Vars viene, ieri è svenuto Tutto c'è, tranne che intenzionalità perché il giocatore è girato Bissek! Ancora Bissek! Vicino al 2-0, mamma mia, è Bissek show qua! Bissek show, ma subito un pericolo per l'Inter! A trefenza, l'Inter, l'Ara si libera per il destro! No, alto sopra la traversa! Abbiamo avuto l'azione offensiva Dopodiché abbiamo perso una palla, l'initellare rigore E' ripartito il Lecce che comunque ha spazio per avanzare Quindi comunque stiamo un po' concedendo anche le ripartenze al Lecce Nel tentativo di fare il 2-0 Rischiamo comunque qualche contropiede in più Tra l'altro, Filippo, correggimi se sbaglio Inzaghi il rammarico nella gara contro il Bologna E' anche quello che per la prima volta si fosse fatto rimontare Non era mai successo all'Inter No, come non era successo? Lui aveva detto che non c'era mai successo di perdere Cioè eravamo in vantaggio e abbiamo perso una partita Facendoci rimontare in casa No, era successo sì, col Sassuolo In casa? Sì, vincevamo 1-0, gol di Dumfries Nel secondo tempo ha fatto due gol L'ho preso per buono Si sarà sbagliato Comunque è successo col Sassuolo Poi è successo anche con il Bologna Ma lì non abbiamo perso Abbiamo pareggiato in campionato Però è successo due volte a San Siro Allora, Filippo Cambi che potrebbero dare una mano? Ci sono? Frattesi Ma io credo anche fra poco anche Sanchez Ma tra l'altro ti dirò di più Adesso non lo so Però a me pare in questo momento Esagero, è più utile Arnautovic e Turan Perché Arnautovic sta tenendo palla alta Sta subendo tantissime trattenute Facendo salire la squadra Turan mi sembra un pochino Fuori dal gioco Sì, ma no, lo vedo stanco Poi io lo farei anche recuperare Filippo No, poi lì in mezzo al campo Secondo me c'è anche Aslani che potrebbe entrare Uno che sta spendendo Ma vai a cambiare così tanto in un momento in quella partita No, adesso non cambierai niente Uno che sta spendendo tantissimo Fra dieci minuti vediamo È Mkhitaryan Sta spendendo Mkhitaryan Ragazzi Però con due cambi Con frattesi Cioè uno ne togliereste No Ne togliereste Anche fra dieci minuti Adesso sull'1-0 Dato che la partita è emilico Che botta Comunque Non è semplice fare di cambi adesso A meno che non c'è qualcuno Che ha già problemi Che è stanco Allora se ti dice Sono stanco Cambi Però un allenatore in questo momento Sull'1-0 Se i giocatori non ti dicono niente Lasci tutto com'è Però come hai detto te Giovanna Se vuoi cambiare Comunque c'hai Frattesi Aslani È dietro C'è Darmiane E Acervi Che stanno giocando Da quando è iniziato Il ritiro Ma infatti forse anche dietro Che se dovesse esserci il mercato Intanto C'è stato uno scontro Molto duro Tra Bastoni e Piccoli Con una palla vacante Vanno tutte e due insieme L'arbitro concede Punizione per l'Inter E dà il cartellino giallo Per gioco pericoloso A Piccoli Che effettivamente è arrivato A valanga Sulla gamba di Bastoni Poi è rimasto infortunato Anche Piccoli Ma adesso si sono alzati entrambi Esce Strefezza Nel Lecce Che ha speso Veramente tantissimo Entra Raffa 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 Raffia Raffia Entra Raffia Raffia Ma dietro Filippo Ad esempio Se uno vuole fare i cambi Dietro il Kicciano in panchina Chi? Noi? Questa partita Pavara e De Vrij Ah Pavar c'è? Sì hanno recuperato De Vrij ha recuperato anche Sì Pavara ha giocato anche qualche minuto Col Bologna in Coppa De Vrij invece Non è ancora tornato in campo Però adesso è disponibile No anche perché Come dicevo prima Cerbi e Darmiana Stanno giocando 90 minuti Dall'inizio del campionato Tutte le partite Ma infatti col Bologna Si è visto a Cerbi Ma poverino Cioè cosa gli puoi dire Ha giocato Sì No senza sbavature Fino a Comunque il migliore in campo Aurel Bisse A quel momento Chi? Migliore in campo Aurel Bisse L'avevo convinto L'avevo convinto Aurel 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 Io do Barbato come artista Ma quando fa il mimo Puoi chiamarlo anche Giuseppe Quando fa il mimo È grandissimo Allora vediamo Adesso comunque Vado a verificare Insomma mi sono Anche se così Di fiducia Mi tendo a dar ragione A dar ragione A credere al nome Di battesimo di Filippo Non credi Filippo Ci credo Ci credo assolutamente Però voglio proprio Allora vediamo E ritrovati ogni tanto Anche noi eh Filippo Ci concediamo qualche sorriso Durante la pubblicità Per stemperare le tensioni Che si vivono in campo Ci sono stati cambi? No non ancora Siamo al 74esimo C'è una punizione per l'Inter Tre quarti di sinistra Siamo 35 metri Lontani dalla porta di Falcone Qua Quindi ci vuole Una punizione calciata Proprio alla perfezione Per cercare di impensierire Il portiere del Lecce Cialanoglu prova Col cross morbido in mezzo Per Ancerbi Che fa ponte per Turam Che non tira neanche stavolta Ma perché? Ma perché ha tirato indietro? Ancora Barella L'intero è l'area di rigore Cialanoglu Indietro Morbido sulla destra In area di rigore per Bastoni Non ci arriva nessuno Ma anche qua La palla è per Turam Dentro l'area piccola Sulla sinistra Può provare A incorrare verso la porta Ma prova un ponte Rimorpio Per qualcun altro E nulla di fatto Stanchezza Per entrare a Slani Il violino dei Balcani Aslani Ma perché fa rimo O perché no? Aslani il violino dei Balcani E vediamo un po' Al posto di chi Cerchiamo Cialanoglu Sì sì Di solito il cambio è sempre quello Ciala stremato È vero è vero Giustamente E poi il settantesimo Siamo anche No no Violino perché Ha un piede Che potrei paragonarlo Appunto all'archetto del violino Perché ha una sensibilità straordinaria E poi perché In Albania Sono famosi per essere Grandi violinisti Ah ecco Vedi E quindi Anche a Cremona Ah sì Anche a Cremona Si chiamava A Cremona Un po' Leggermente 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 La palla spila Va tranquillamente È ora di chiuderla Filippo Stappartita Secondo me È ora di chiuderla Secondo me Stappartita Sono d'accordo con te Sono d'accordo con te Tenerla aperta così Con Sì ma non gufare Il problema Il problema è che Intenzione di Arnautovic È molto bravo a spingere Cioè è molto bravo a spingere In fase difensiva Ma non gli si può dire Di stare un po' più accorto No ma se tu hai queste caratteristiche Diventa difficile Lui è molto bravo Frattesi a andare negli spazi Perciò a offendere Perciò in questo momento Lui sta dipendendo Ti serve una copertura invece Beh allora Serve anche chi Chi la schiocchi Chi la mette Insomma in una situazione Più di sicurezza Bravo Arnautovic Prova a andare per Turam Sulla tre quarti sinistra Sovrappone Carlos Augusto Turam invece va per via centrali Però si trova davanti Il muro giallo Anzi rosso Ancora Barella Barella Per Arnautovic In area di rigore Colpo di tacco Fantastico per Barella Gol Nicola Barella Ma Arnautovic Fa un assist stupendo Di tacco A liberare Barella Solo davanti A Falcone A temporeggia Lo guarda Lo fa sedere E poi lo buca Con il sinistro 2 a 0 per l'Inter Nicola Barella Su assist Clamoroso di Arnautovic Ora tutti vanno da Arnautovic A fargli complimenti A dirgli bravo E anche tutto il pubblico Ma credo che Filippo Qui si spieghi anche Grande Grande tacco di Arnautovic Ragazzi Arnautovic fa un assist Da campione Bravissimo Bravissimo Anche il modo in cui sono andato ad abbracciarlo Sono andato ad abbracciarlo Fa capire qualche passaggio in più Che noi ci chiedevamo Com'è poteva tirare la passata da Arnautovic Forse proprio È la forza anche di un gruppo Che vuole che Arnautovic venga fuori La cosa spettacolare è stato il tacco Ma l'inserimento di Barella Come è stato bravo Guardando il tacco di Arnautovic Mi sembra di ricordare il tacco di Muriel Che l'ha messo nell'angolino Uguale La cosa vista Ma te l'ha detto che è il 23 di dicembre Che siamo quasi a Natale Giacomo Ma no Mi è venuto in mente Con tutti i colpi di tacco A livello di esecuzione In un'altra zona del campo Ha fatto gol Muriel Sembrava una roba Però posso dirti Chiedo a te Che sei calciatore Allora Quello di Muriel Quando gli arriva la palla È istinto Il grande attaccante Questo è ragionato Nel senso che Arnautovic Prende palla a spalla alla porta Vede Barella che arriva Sa già cosa gli vuole fare E è ragionato Non è istinto Anche ovviamente Di chi ha questo tipo di colpi Però Fili Tutte e due Sono ragionati E con un obiettivo Allora Quello di Muriel Era far gol Poi chiaramente non sa Che va a prendere la base del palo Ha fatto una cosa straordinaria Lui Vede Perché è girato verso La sua porta Arnautovic Vede Barella che va E Barella T'ho detto Barella Barella a trovare gli spazi Lui poi col tacco Gli hanno dato Con la forza giusta Al momento giusto No Tutte e due sono stati bravi Ma il tacco è stato Spettacolare Comunque io Ho letto i tempi giusti Ho detto che era ora Di chiudere la partita È fatto bene È fatto bene Grazie Gianni Grazie E invece Gianni è stato Come dire Ha avuto un po' il pendolino Prevengente Esatto Di Barbato Se finisce veramente 2 a 1 Non mi chiamerò più Simone Barbato Ma Simone Barbato E beh certo Perché lo vede arrivare E pensa di fare Quella cosa lì Comunque Barella è bravissimo Si inserisce Si è stato bravo Fa un taglio impressionante Le corner ancora per l'Inter Il primo battuto Andare a occupare lo spazio è pazzesco E poi l'occhio che arriva Uno che ci ha castigato Attenzione Sansone Sì Sansone Intanto luce a San Siro Signore e signore Chi canta? Con il cellulare Tutto pronto per il cross di Aslani Dalla sinistra Parti Aslani con il destro 81 di gioco Arriva il cross di Aslani Ancora molto sul primo palo Sembra che quasi a sto punto Sia uno schema Quello dell'Inter Perché li battono tutti i corti Sul primo palo Sì perché Fili Secondo me sì perché Va sempre a Cerbi Sul primo palo Per spizzarla Per spizzarla e farla Cercare di mandarla sul secondo palo Di solito va a Cerbi Aslani ancora Ripete il calcio d'angolo Arriva al cross Ancora sul primo palo E ancora Non so chi è andato Adesso dell'Inter Ma è uno schema Anche quelli del Lecce Di fatto sì No ma quelli del Lecce lo sanno Perciò mettono I giocatori Al vertice Dove c'è la linea Dell'area piccola Anche se la alza un po' di più Non è male Intanto Turam ha ripreso il sorriso E questa è una cosa meravigliosa Sì E lo spartano a Cerbi Superlativo in difesa Ti è venuta la pelle d'occa Vedere e sorridere Aslani col destra Arriva al cross Ancora sul primo palo Sempre no Tutti uguali Ragazzi ma anche cambiare No voglio dire Recupera però l'Inter Con Bastoni Si sovrappone Aslani Ma la palla è per Adarmian Tre quarti centrale Allarga ora per Aslani Che prova lo stop orientato Non riesce a superare Il giocatore del Lecce Ancora Bastoni Che va a cambiare tutto per Bisse Con pallone un po' sgorbutico Questo Infatti lo perdiamo Riparte allora Christovic C'è la chiusura di Aslani Ma c'è fallo di Barella E quindi calcio di punizione Per il Lecce Già battuto Ho notato che Aslani Cerca sempre la cosa difficile E questo vuol dire Che la sua tecnica Glielo può permettere È un giocatore Che tenta sempre il numero E quasi sempre gli riesce Occhio Dipende quante volte gli riesce però Bravo Bissek ragazzi Che partita Bissek Bissek era uno dei migliori Credo Adesso non avremo tempo Di fare i migliori peggiori Ma che tu lo rimetta Sicuro Ma allora Anche perché lui Rosso Attenzione Espulso Raffia Espulso Raffia Non penso per proteste Ma era mica entrato da poco Aspetta eh O Banda No 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 Espulso Banda Adesso cerchiamo di capire perché Per l'entrata No Perché entra sul pallone No credo per Credo per proteste eh Ecco qua Vediamo Si forse sta Sacramentando un po' Eh si Si è sentito un Due o tre volte Vaffa Davanti all'arbitro Ma le proteste derivavano Scusami Filippo Perché lui voleva il calcio d'angolo Ma tra l'altro aveva assolutamente torto Perché abbiamo visto il replay L'ultimo top è proprio il suo Sullo stinco Del Sul suo stinco Quello di Banda Eh L'arbitro ha sentito Ha visto Ha deciso per la rimessa dal fondo Eh Banda si è molto arrabbiato Ha protestato Veementemente Più e più volte Dopodiché l'ha mandato In inglese A fare Due volte L'arbitro si è girato Gli ha dato il cartellino rosso Tra l'altro adesso Banda continua a protestare Ha messo le mani addosso All'arbitro Che si è arrabbiato il doppio Quindi credo che prenderà un'ulteriore Giornata di squalifica Perché non puoi mettere le mani addosso all'arbitro Adesso poi vedremo cosa farà l'arbitro Cosa scriverà l'arbitro nel referto E comunque Lecce in dieci Intanto nell'Inter Sono entrati Pavard Per Carlos Augusto E Sanchez per Turam Quindi vediamo un po' Pavard Dove si mette Vedi che lo fa adesso? Allora Darmian va a sinistra Pavard fa il laterale di destra Quindi va a fare il laterale di destra Darmian che è buono per tutte le stagioni Va a fare a sinistra Ma è incredibile E via È un jolly assolutamente instancabile Allora Vado prima di andare in pubblicità Faccio un flash a Verona Com'è la situazione Alberto? È vero La situazione è sempre lì Nel senso che il Verona Non la chiude Il Cagliari ci crede ancora La partita si è nervosita molto Molte entrate ruvide e cattive Insomma il risultato è importante per entrambe le squadre Certo che il Verona in questo momento è più sereno Perché vede Ormai manca veramente poco Cinque più ricopero A questi tre punti importantissimi Il Cagliari non molla Come dicevo prima Il Verona deve chiuderlo Sarebbe bello Poter festeggiare il 2-0 E poi mettere in archivio questi tre punti Te lo deve dire solo a Rolli Perché ciò avvenga Gianni prima di andare in pubblicità Di che ad Alberto servirebbe Come hai fatto prima con Filippo Beh insomma certo il Verona Con la classifica che ha sicuramente Però attenzione a Cagliari Perché Cagliari ci ha fatto vedere delle robe Negli ultimi minuti di recupero Andare a vincere delle partite impossibili Eh no Non tirarmela però Non chiamarmela Io te lo dico perché sai con chi è a che fare Te lo dico occhio Aslani Aslani Mamma che bordata Parata di Falcone in corner E andiamo a Verona Dove c'è il radocchio del Verona Alberto Eh scusa dai Eh sì Diuric Diuric Dopo una caterva di occasioni sbagliate Un colpo di testa di Diuric Miracolo di Scuffè Ancora Scuffè Paratissima Sumboula Finalmente la chiudiamo Almeno puoi mangiare un Pandoro in Santa Pace E la mette dentro E segna 2 a 0 Comunque questa volta c'è il beccato Eh No Aspetto Aspetto ancora Aspetto Mettiamo in una buonissima posizione Per portare a casa i tre punti Dai Alberto giusto La prudenza non è mai troppa Il calcio ci ha regalato 5 minuti di recupero 5 minuti di recupero Filippo si è visto no? Nel periodo non collegato L'occasionissima che c'è stata in casa Inter Hai detto di riportare gol No doppia occasione Doppia occasione Cross di Sanchez alla sinistra A giro sul secondo palo Tagliato fuori Falcone Arriva in scivolata Con la palla che sta uscendo dal campo In scivolata Aslani Che la ributta verso la porta Palla che Falcone Con un colpo di reni Toglie dalla porta Proprio sulla linea di porta 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 E alla fine mette in corner Sugli sviluppi del corner La palla arriva Al limite dell'area di rigore Ancora Aslani va a tirare Una fucilata Dai 25 metri Sotto l'incrocio dei pali Falcone ancora una volta Miracoloso A togliere la palla dall'incrocio E a salvare ancora il Lecce Falcone ha fatto una partita assurda Allora Filippo 4 minuti di recupero Siamo a 40 secondi già giocati Guarda sto da te poi fino al finale Ma volevo Leonetti dai Vai Leonetti Un minuto per un tuo commento Anche un minuto e mezzo Anche 1,40 Guarda non mi arrabbio Vai perché voglio sentire Cosa ne pensi Poi ti vedo così sorridendo Anche 1,30 Anche 1,30 Anche 1,30 Anche 1,30 Altri arbitri Altre arbitri Invece Cominano il cartellino Però secondo me questa è un'espulsione giusta. L'Inter ha fatto quello che doveva fare, il Lecce nel secondo tempo è stato più reattivo, era sotto, doveva cercare di reagire. Falcone incredibile, eccezionale in questi due interventi. E poi quello che ha fatto Arnautovic secondo me è una strenna natalizia, un gesto di una bellezza e di un'efficacia incredibile, ragionata come avete detto voi in studio. Arnautovic ha questo tipo di colpi, però insomma questo è un assist veramente a 5 stelle. E allora ritorniamo in cronaca ragazzi perché manca quanto Filippo? Superiorità numerica dell'Inter, Aslani nella corsa per Pavar c'è Klasen tutto solo in mezzo, c'è la chiusura decisiva da parte di Pongracic e palla in corner. Vicinissima ancora al gol l'Inter, bravo Aslani a dare sulla corsa per Pavar, cross in mezzo in orizzontale per Klasen che è solo e vuole mettere il pallone col piattone in porta. La chiusura decisiva di Pongracic, ora c'è corner per l'Inter quando mancano 70 secondi alla fine della partita, una vittoria comunque molto molto importante che arriva dopo la sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia e dopo la vittoria della Juve nel pomeriggio. Tutto pronto, Aslani sul pallone pronto a battere il corner, è iniziato adesso l'ultimo minuto di gioco, arriva il cross di Aslani sul primo palo, mette fuori ancora lui Pongracic, c'è palla che finisce in fallo laterale, mancano 50 secondi scarsi alla fine della partita. Inter 2, Lecce 0, inquadrato Barella uno dei migliori in campo. Devo dire che il centrocampo nonostante non fosse al massimo, Barella stava meglio degli altri, non fosse al massimo devo dire che ha fatto un'altra grandissima partita. Pavar, tutto pronto per il fallo laterale, 30 secondi alla fine, ancora Pavar, aspetta il posizionamento dei compagni, si muove molto Sanchez, la palla però è per Frattesi che stoppa in mezzo a tre, poi ancora per Pavar che prova a dare ancora a Frattesi, che vediamo se si muove in un fazzoletto, prova l'esterno Pavar, attenzione che c'è spazio, Frattesi prova il dribbling, la recupera ancora Pavar, fallo, calcio di punizione, credo che sarà l'ultima azione, vediamo se l'arbitro farà battere la punizione oppure se fischierà la fine della partita perché i quattro minuti finiscono adesso, finisce qui Inter 2, Lecce 0, si torna a più 4 sulla Juventus, bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. Una partita importantissima, come hai detto tu, rivediamo la classifica perché ritorna ad essere con quei due punti che nella scorsa giornata di campionato l'Inter ha rosicchiato la Juventus e allora a questo punto ecco la gioia ovviamente di Filippo Tarrottana. E resta la, la capolista resta la, la capolista resta la, la capolista resta la, e resta la. Ma aspetta perché tu dove eri scusa? Era sotto i titoli. Eri sotto i titoli, eri praticamente un sottopancia barbato. E forza nero azzurri, e forza nero azzurri, e forza nero azzurri, e forza inter. E forza nero azzurri, e forza nero azzurri, e forza nero azzurri, e forza inter. Vabbè, Leonetti sorride, gli è piaciuta anche questa versione barbatesca della gara, questi inni al Natale conditi da nero azzurri. Ma io preferisco barbato quando fa il mimo, l'ho già detto e lo ripeto, adoro barbato quando fa il mimo però. Ma perché non fa il mimo? Cioè quando sta fermo e zitto, giusto? Non in questo senso però. Cioè quando fa, ah sì, no, così, così. Plastico, plastico. Ragazzi, guarda com'è bello, guarda com'è plastico. Non respira, va che adesso vai in... Ma è vero, verrebbe voglia di andare lì a fare il sole, ma secondo me rimarrebbe comunque mimico. Potrebbe essere... Riesce a star così fino alla fine della trasmissione. Esatto, che è l'undici e un quarto, diciamo. Tra l'altro 20.45, dopo Casalotto, riprende diretta stadio con Federico Bertone per Roma-Napoli, voglio dire. Ma lui sta così anche in pubblicità? E lui sta così, fino al 29, quando ci sarà la prossima giornata di campionato. Cioè vorrei che è immobile veramente. Proprio tipo fermo immagino. Sembra un cane da caccia da punta. Vediamo, vediamo, mettiamola alla prova. Ma se anche alla fine dei saluti e del finale di trasmissione, perché tra l'altro devo andare da Alberto, perché è finita anche a Verona, Alberto. Siamo in conclusione. Finita, finita, finita. Tre punti d'oro per il Verona che festeggia un bel Natale e finalmente è fuori dalla zona retrocessione. Incredibile, ma questa, come dicevo prima, questa vittoria era importante, fondamentale per trovare morale e per riuscire, come si può vedere dalla classifica, da quella zona retrocessione. Per carità, siamo ancora tutti attaccati, però insomma, essere sopra è già una buona cosa. Verona che ha meritato, secondo me, per come ha giocato, secondo tempo sicuramente di qualità. È stato favorito ovviamente dall'espulsione del giocatore del Cagliari, però tutto sommato un tre punti che il Verona porta a casa e forse compensa la sconfitta di domenica scorsa. Grazie Cristiani, grazie Alberto, è stato un piacere veramente averti collegato. Grazie a voi, tanti auguri. Grazie, auguri di buon Natale a te la tua famiglia. Scusa, vorrei farmi fare gli auguri del barbato. Cosa? Vorrei farmi fare gli auguri del barbato. Eh ma è in posizione plena, non si può. Secondo me fino al 30 rimane, no? Forse è trapassato l'agosto. Lasciamolo così, sul suggerimento di Leonetti. Lasciamolo così, ricordiamolo così. Ricordiamolo così. Mimico. Allora, grazie Filippo Tramontana. Ciao, buon Natale a tutti, buon Natale. Grazie, grazie Filippo Tramontana. Mi unisco ovviamente al buon Natale. Vi ricordo, scusa? Altra due minuti. Sì, sì, no, lo so, lo so. Vi ricordo che, abituata a chiudere, volevo fare il regalo di Natale a Foschini e chiudere in anticipo. Io cosa ho salutato a fare? Cioè, adesso per due minuti non parlo. No, ma adesso ritorno da te e ti dico che voto daresti ad Arnautovic perché ho il tempo di dire. Sette, sette. Sette, sette. Allora, buon Natale, auguri a Barbato.